Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenz e bentornati su Antimeta. Come vedete dal titolo, oggi vi presenterò un po' il canale e i video che vedrete in futuro. Allora, intrammezzandolo a qualche sbustata su Magic Arena. Allora, io sono un giocatore di carte, da sempre. E ho sempre giocato per divertirmi, mai per competere. O con ambizioni di vincere chissà quali tornei. Ho sempre giocato tra amici, ho sempre fatto tornei locali, con lo scopo di divertirmi. Ho iniziato tanti anni fa con io, poi dopo ho iniziato a farmi un po' schifo e sono passato a Magic. Ho provato quasi tutti i formati di Magic. E da novembre gioco anche a Keyforge. Allora, intanto apriamo qualche bustina. Vediamo in Ixalan cosa troviamo di buono. Allora, sul canale vedrete ogni tanto i video su Magic Arena. Perché è una buona piattaforma e mi piace giocarci. Ma lo scopo principale del canale è condividere le mie esperienze di gioco con voi e farlo attraverso i miei amici. Cioè voglio coinvolgere i miei amici nel fare video insieme a me per divertirci insieme e poi metterli su YouTube. E se vi piacciono, se vi interessano, guardateli. Ma lo scopo principale appunto è legare con tutti i miei amici con cui condivido la passione dei giochi di carte. Per trascorrere del tempo insieme. Allora, cosa vedrete sul canale? Oltre a vedere ogni tanto qualche partita con Magic Arena di qualche mazzettino che faccio così per divertirmi. Caricherò delle partite dove gioco con i miei amici in real. Principalmente potete vedere Commander. Sono un giocatore di Commander multiplayer e non di uno contro uno. Però saltuariamente per provare i mazzi, per vedere come girano le pescate, se una combinazione funziona, anche se è sbagliato, li provo in uno contro uno con un mio amico. Perché è più facile trovare una persona con cui giocare che trovarne tante per fare un multiplayer. In realtà manca la voglia di organizzarsi. Potrete vedere qualche partita di Pauper, visto che ho un paio di mazzi e voglio provarli e giocarli. Sicuramente caricherò anche qualche partita di T2, sempre tutto molto for fun, con lo scopo di divertirsi e giocare con le carte. Non vedrete i mazzi competitivi che spaccano, che vincano, chissà quali tornei. Comunque potrete vedere delle partite, potrete vedere Uber e la bomba d'acqua, potrete vedere degli unboxing, infatti già che ci sono, caricherò il video di tutto quello che compro praticamente. Il pezzo forte è che vorremmo caricare l'analisi dei nostri mazzi, dei miei e dei miei amici, che mi hanno già dato un po' di adesione a questo progetto di divertimento, a questo gioco. Perché per noi YouTube è un gioco, per me soprattutto. E quindi caricheremo appunto dell'analisi dei nostri mazzi commander da multiplayer, da tavoli da almeno tre giocatori. E poi, siccome mi piace davvero un sacco, voglio portare anche qualche mazzo di Keyforge. Con degli amici con cui gioco a Keyforge, mi piacerebbe portare anche qualche unboxing, qualche analisi di mazzo e qualche partita. Queste sono le idee principali del canale per adesso. Poi, mi piacerebbe fare tante cose, sempre insieme alle persone che conosco, ai miei amici, per stringere con loro e legare di più, naturalmente, tutti gli amici che ho conosciuto, grazie ai giochi di carte. E è una bianca bella. Quindi, come ho già detto, 200.000 volte, lo scopo è divertirsi insieme. Top. Cari Citroide. Bello. E vogliamo divertirci con Magic. E con anche altri giochi di carte. Che vi porteremo esempio Keyforge. Non so neanche, magari. Dipende da quello che mi ispirerà giorno dopo giorno. Non sarà un canale costantissimo. Cercherò di fare un video a settimana o due. Però dipende sempre dal tempo che avrò di giocare con i miei amici. Comunque per ora non è andata malissimo, l'ha sbustata. Vediamo cosa c'è. Cos'è sarà proprio un video fatto malissimo. Spero si senta, almeno, quello che dico. Un bel dobing bani. Dobing bani. Angelo della grazia. Vabbè. Piuttosto che niente. Che sia una bella carta Jolly mitica. Mi sarebbe abbastanza comoda. Un'ultima 6 bustine. Oh. Molto, molto bene. Quindi siamo a 2. E 3 rare. Che ho accumulato in un paio di mesi bustine vinte dai premi giornalieri, dai draft. Insomma, non ho aperto niente per un paio di mesi. Ho detto, le ho prese tutte in un colpo. Zegana. Buono. Bestina arrancante. La rietta si fa la pincetta. Ottimo. Giorni suoncarte molto, molto gravite. Mortificare. Mitchia. Bene. Abbiamo aperto tutte le buste. Ho spiegato in modo pessimo cosa vorrò fare sul canale. Spero che si sia capito. E niente. Se vi piace il canale, mettete un like, iscrivetevi. Fate pure dei commenti, io vi risponderò molto volentieri. E a presto con un prossimo video, dove vi porterò qualche partita con i miei amici. Ciao a tutti.